Ho viaggiato attraverso regioni, paesi, addirittura continenti, alla ricerca della mia visione di pasticceria e di un partner d'eccellenza capace di aiutarmi a costruirla. Trovarlo ha reso possibile l'impossibile. La pasticceria per me è un sentimento di sorpresa che in qualche modo ti cambia. Lo fa con i colori, con i sapori e con le consistenze. Quella contemporanea deve saper espandere l'emozione oltre confini del gusto. Deve saper creare un'esperienza immersiva frutto di tecnica, creatività e innovazione. Il cliente deve trovarsi come al centro di un museo perché se il dolce è arte lo sono anche lo spazio che lo circonda, la vetrina che lo contiene, la scelta dei materiali e l'interazione con il suo pubblico. È il design di un'esperienza personalizzata in cui tutto è fondamentale. Dove estetica, materia e innovazione entrano in perfetta sintonia, permettendo di affrontare sfide tecnologiche e di sostenibilità. Quando parliamo di pasticceria contemporanea stiamo parlando di un ecosistema in perfetto equilibrio in cui è necessario scegliere partner migliori, quelli capaci di guardare nella stessa direzione e dar forma ai nostri sogni. Ciam è l'eccellenza al fianco di ogni professionista e della sua identità.